Sì, ancora una volta Omeni ha fatto delle scelte banali, non ha avuto il cambiamento, però devo dire che per quanto ci compete, che ringrazio tuttora ancora la lista, perché veramente sono persone straordinarie a fare tassi, che stiamo ottenendo un grosso successo. Stiamo diventando una forza politica omenese e quindi con diverse situazioni italiane, diverse zone italiane, anche qui dovranno fare i conti con noi nelle prossime elezioni. E già noi stiamo programmando, stiamo pensando e stiamo organizzando, perché fra cinque anni, se Dio vuole, ci saremo ancora. Però prima di cinque anni c'è un appuntamento tra due settimane, io credo che il tuo telefono, Marco, nei prossimi giorni squillerà da una parte e dall'altra, perché è insomma un bacino elettorale non indifferente, quindi a chi guardi con maggiore simpatia o a chi risponderesti con maggiore favore? Come abbiamo detto, gli apparentamenti non ne facciamo perché i parenti li ho già in lista, faccio la battuta e anche le indicazioni di voti non ne facciamo, noi come nasciamo e moriamo.